Cresce la paura tra gli abitanti di Villa Reale e il piccolo centro colinare alle porte di Chieti per la raffica di furti compiuti negli ultimi mesi, circa 20 colpi messi a segno nelle scorse settimane nelle abitazioni della zona. Un anziano cacciatore, secondo quanto riferito da Danilo Primiterra, presidente dell'associazione Villa Reale in Cammino, avrebbe sparato alcuni colpi in aria con il suo fucile per mettere in fuga i malviventi. In zona ci sono stati purtroppo diversi furti e moltissimi tentati furti perché entrano addirittura quando ci sono i proprietari in casa, quindi non hanno paura di nulla, si sono ritrovati più volte faccia a faccia con coloro che stavano nelle proprie abitazioni, qualche volta è sfociato in un diverbio e quindi i proprietari sono stati anche minacciati, ultimamente si sono resi conto che erano in tre con un accento dell'est Europa, qualcuno che deteneva un'arma a scopo deterrente ha sparato in aria anche perché poi se andiamo a vedere credo abbiano anche qualche informazione perché sono entrati quasi tutti in case dove risiedono delle coppie anziane. Nella zona, ricorda ancora Danilo Primiterra, risiede anche il presidente della regione Marco Marsilio pertanto ci sarebbe un ulteriore motivo per garantire maggiore sicurezza. Primiterra nei giorni scorsi ha inviato anche una lettera al prefetto di Chieti. L'appello che abbiamo fatto al prefetto come associazione è più che altro veramente un appello perché purtroppo capiamo che le disponibilità delle forze dell'ordine sono molto ristrette. Questa effettivamente è sempre stata una zona abbastanza ambita perché è una zona tranquilla, è un bel posto logisticamente a due passi dai servizi, da Pescara a Chieti, dal mare. Fatti del genere non sono mai accaduti se non, come ripeto, in modo sporadico in tempi passati. In questo caso qua la situazione, siccome continua a persistere, inizia ad essere preoccupante anche sotto l'aspetto psicologico. Ci sono delle signore che non rientrano a casa dopo l'orario di lavoro se non rientra anche il marito. Io stesso, se sento prima, se sentivo qualche rumore, andavo a dormire tranquillamente la sera. Adesso invece devo fare il giro di perlustrazione attorno a casa per essere più tranquillo. Grazie. 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 Grazie.